ciao a tutti ragazzi da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti e benvenuti a questa puntata flash senza neanche la sigla di racing time allora ieri sera mi potevo stare zitto perché ho info di qualche giorno fa che vedevano simone resta tranquillo e sereno solo che ho sbagliato a non darle quando le ho ricevute perché negli ultimi giorni si è mossa qualcosa stamattina quando ho letto alcuni messaggi che che mi sono arrivati sono saltato dalla sedia perché ho detto ma come simone resta era bello tranquillo messo lì e adesso dove va in mercedes ragazzi simone resta va in mercedes quindi colpo grosso stavolta toto wolf l'ha fatto pescando in ferrari però probabilmente questa pesca è stata favorita anche dal fatto che ancora simone non avesse un posto di rilievo in seno alla jazz per me per quel che mi riguarda è una grossa perdita possibilmente si sarebbero pestati i piedi con altri in ferrari che oggi stanno lavorando bene quindi per carità poi devi avere una chance uno sbocco di carriera e secondo me simone resta è stato sin troppo paziente andrà in mercedes senza intaccare quello che è il ruolo di james ellison però io mi auguro che ci fermiamo qui in realtà c'è un'altra area che la mercedes sta cercando di potenziare e l'ha fatto con enrico sampo chi è enrico san po un team leader per quel che riguarda il simulatore e evidentemente questa può essere anche letta come una cosa positiva perché in ferrari nel 2023 c'erano problemi col simulatore però io vi ho fatto come dire capire in più video che i problemi sono nati perché i dati inseriti non erano quelli corretti invece adesso che succede adesso succede che il simulatore ferrari funziona veramente bene che c'è un'ottima corrispondenza con la pista e questi problemi invece dove li hanno li hanno in mercedes e quindi toto wolf sta cercando di potenziare quella area proprio con l'acquisto di uomini chiave uno di questi appunto arriva dalla ferrari è giovanissimo e ha fatto veramente bene bene io direi che tutto questo lo possiamo anche vedere nell'ottica di uno scambio di uomini tra maranello e mercedes perché non dimentichiamo che noi i nomi noti quelli resi al pubblico resi pubblici sono quelli di serrà sono quelli di come si chiama che è d'ambrosio jerome d'ambrosio che era un uomo chiave per mercedes e che passerà gli ha soffiato sotto il naso e probabilmente questa questo 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 come dire mercato incrociato dei tecnici altro non è che uno scambio per magari avere prima una un personaggio come d'ambrosio anche se a noi servirebbe avere prima serrà che comunque ancora sta lavorando in mercedes e sarà operativo lì fino ad aprile poi ci sarà tutto quello che è il garden in living ma garden in living che io mi immagino ci sia anche dall'altro lato da parte di simone resta e di enrico sampo in modo da non arrivare subito a dare manforte agli uomini mercedes tutto questo fa parte di una formula 1 dove comunque tu devi assolutamente e programmare oggi per poter sfruttare quello che tu acquisti non domani ma dopo domani perché i tempi da questo punto di vista si sono allungati e non poco però ragazzi io continuo ad essere fiducioso e ad aspettare cioè non dobbiamo fasciarci la testa per questo passaggio di simone resta in mercedes anche perché se fosse passato in red bull sarebbe stato molto più grave in mercedes devono ricostruire e parecchio un organigramma che è stato parecchio saccheggiato prima da red bull e poi da ferrari anche perché come vi dicevo poc'anzi in ferrari non hanno acquistato solo due uomini dalla mercedes ma tanti personaggi chiamati in maniera anche brutta di secondo piano che però risultano fondamentali per costituire uno dei punti di forza i cardini di un team saldo e abbiamo visto come mercedes sia stata tanto innebolita prima da red bull e poi da ferrari da questo punto di vista quindi a me simone resta in mercedes piace molto di più e anche enrico sampo piace molto di più di un simone resta in red bull che avrebbe inevitabilmente potenziato un organigramma che già oggi è molto potente oggi domani vedremo perché ripeto lì è tutto in evoluzione e tante risposte spesso mi chiedete in chat no tante risposte ragazzi arriveranno nel momento in cui agli uomini stessi che lavorano in red bull sarà più chiaro quello che succederà proprio domani in red bull cioè inteso come nel prossimo periodo perché ancora è tutto molto molto nebuloso in quanto le posizioni di horner e di chi lo attacca non sono affatto stabilite definite e chiare quindi per questo io spesso dico ragazzi mi aspetto un qualcosa però non è una comunicazione che va data è più che altro un qualcosa che va deciso da parte di chi ha ricevuto l'offerta e non parlo solo di adrian newway bene per questo tg flash è tutto devo essere sincero ci sono rimasto male perché simone resta io lo volevo ancora in ferrari ci sono rimasto male perché comunque fino a una settimana fa mi avevano detto che era era tranquillo evidentemente dopo il colpo di d'ambrosio in mercedes da parte di vasser si è mosso anche toto wolf e ha pescato questi due personaggi che comunque erano due personaggi attualmente in stand by parcheggiati in ferrari e quindi è normale che si cerca di trovare sbocco in altre scuderie ragazzi ci vediamo dopo se vi piace il canale iscrivetevi lasciate un like un commento e condividete il video se volete nei vostri social e attivate la campanellina ciao raga mettiamo lo stacchetto finale